Va bene va bene va bene io direi di iniziare e finalmente ci siamo Ciao ragazzi ciao Carmelo come stai? Molto bene molto bene comunque non dovevi dire il mio nome perché non è ancora ufficiale Volevo condividere con voi il primo trailer Quello prima che aggiustassero la situazione di Star Wars Sono innamorato del primissimo trailer dove le spade laser erano bianche De carta sostanzialmente Erano di carta si con il Beh in un certo modo erano de carta Eh si erano fatte di scotch light Eh si lo stesso materiale che c'ha il giubbottino quello che ti metti quando buchi una ruota e bestemmi Per fare le spade laser perché non è che avessero molto effetti speciali Perfetti ringrazio E avevano usato questi bastoncini con questo materiale riflettente Quindi sparavano la luce sulla spada Su questo bastoncino in pratica Che poi tra l'altro l'impugnatura era un oggetto Era se non erro quella a fare per il flash giusto? E quindi nulla hanno fatto questa spada laser così E l'effetto era pazzesco Però ovviamente poi andando avanti rivedendo il trailer Tu dici mio dio ma che cos'era Adesso ce lo vediamo e poi ti dico qual era il problema Di quelle spade laser e il motivo per cui le hanno dovute sostituire Tutti gli effetti sono in analogico Cioè questa roba è proprio roba che entra nella videocamera Pure la scritta è stata disegnata Sì è una sorta di tavolo che loro avevano per fare la motion graphic Ovvero le scritte dal vivo Però le dovevano fisicamente filmare Cioè che cosa incredibile Gli anni 70 ragazzi No no ma Per farvi capire il genere di cosa che si faceva In quegli anni Un film che non c'entra niente La cosa Che però Cioè qui so precisamente come hanno fatto il titolo The thing Che c'è qual'effetto bruciato Sì Praticamente per farlo avevano preso Una macchina da presa Avevano puntata su un acquario Poi ci avevano messo del L'avano coperto tutto quanto di nero E avevano fatto una roba con del Avevano creato la scritta fatta di Di busta di plastica Quella del nero Quella dell'indifferenziata Ah ok E poi gli avevano dato fuoco E quindi quello che succedeva è che La luce che entrava nell'acquario Faceva questi Questi fasci di luce giganteschi E questa scritta fatta di plastica Si bruciava Creava la scritta della cosa E tutto quello per fare Si prende una cosa in After Effects Si fa in dieci secondi oggi Sì esatto Guardare spade Calcola che già mi hai fatto venire Mal di testa Bellissima Allora una delle Delle scene più Criticate in assoluto Volare nello spazio Tanto iniziare vi chiedo A voi è piaciuto Ho già un dolore al braccio sinistro Hai già un dolore A me è piaciuto A me film è piaciuto Questa scena Nello specifico L'ho trovata molto brutta Perché il problema È che poi io Mi sono andato a informare Come l'hanno fatta Sembra tutta CGI In realtà io penso Che l'abbiano cambiato La fotografia della faccia In CGI Che è il motivo Per cui sembra così strana Perché ho visto I take Cioè l'hanno girata Fisicamente la faccia di Leia Quindi non mi spiego Perché sembri così finta Credo perché le abbiano aggiunto Della roba in faccia In CGI E sembra il motivo Per cui è così brutta Questa scena È perché questa roba All'interno dell'universo Di Star Wars Non ha nessun senso Di Cioè non l'hai mai vista E quindi ti fa Incredibilmente strano Dici sì ma Che cazzo Sta facendo Cioè il problema È che la spada laser La vedi Sai come funziona E l'accetti Come spettatore Questa roba Tu dici sì ma Che sa che Si trasporta nello spazio Senza peso Beh per me Ha senso Però vabbè Nell'universo Di Star Wars Quindi a un certo punto Si è introdotto Il fattore anche Ereditario Quindi cioè Se tu sei portato Puoi ereditare Puoi fare Insomma i tuoi figli La tua Prole Potrebbe ereditare Questa Questa forza Considerando che Luke è stato addestrato Ma Leia no Cioè Leia non ha avuto Mai la possibilità Di esplorare L'universo della forza Per vedere Se lei effettivamente Fosse Non lo so Potenzialmente un Jedi Questa è una scena bellissima Perché ti fa vedere Che nel punto di morte In un momento Secondo me Di estrema difficoltà Lei comunque Ce l'aveva Quello Quel pochissimo Di Di forza Ma infatti È sempre la figlia di Anakin No ma soprattutto Rian Johnson Dice che questa scena L'ha scritta Pensando a quei famosi Episodi Dei genitori Che trovano La forza Di sollevare Una macchina Quando vedono Che il figlio È in pericolo Il concetto Lui ha detto Questa era la mia idea Quando ho scritto Questa scena Qualcuno che trova Una forza Che non ha Dentro di sé Secondo me Il problema Non è infatti La scena In sé per sé O il concept Che adesso Luca ci spiegherà Cioè il problema Non è tanto Quello che succede Quanto La maniera In cui Sì Quel movimento Quel corpo Che si muove In quella maniera Lì È proprio Strano Sembra un po' Mary Poppins Secondo me Ci sta Cioè è inevitabile Immaginati un corpo Morto nello spazio La cosa molto bella È che lei Quando apre la mano Si vede questo particolato Che si allontana Lasciando intendere Che lì sta Già usando la forza Dopodiché Lei ovviamente Nella posizione Si ma se si allontana Però il particolato Lei dovrebbe spostarsi All'indietro Hai ragione Però ovviamente Quello è un trucco Cinematografico Per lasciare intendere Che lei sta Usando la forza È un trucco Ovviamente È un trucco Si che è giusto È un trucco No a me in realtà Non è arrivata la pizza Vai vai tranquillo A me non mi spiace Sai io ti dirò Adesso rivedendola Questa scena Luca Ma aiutami pure tu Che è la cosa che in realtà Mi dà più fastidio Di questa scena Non è tanto Che lei vola Dice è fatta bene È fatta male Tanto che lei Nello spazio Arriva a toccare Una porta Fatta quasi di vetro Che viene aperta C'è gente Tranquillamente Che sta lì E non succede un cazzo Cioè è quella La cosa Nessuna perdita di pressione È tutto sommato È quella la cosa Che mi dà più fastidio Cosa che abbiamo già visto Per esempio Mi viene in mente Così velocemente Alien 2 Quando lei Alla fine del film Deve Diciamo Tira via L'alien Fuori dalla Sulaco Dall'astronave Che apre proprio il portello Viene trascinata fuori Eccetera eccetera Ma lei ancora Respira Tranquillamente Ed è nello spazio profondo Più totale Quindi questa scena È questa la cosa Che in realtà Mi dà più fastidio Cioè il fatto Che arriva Tipo pare Che bussa la porta E qualcuno Gli apre E c'è lo spazio fuori Però C'hai capito No Giovanni Il fatto è che Tu hai sottolineato Quello che io Cioè è la critica Che io c'ho nel cervello Ma che ho spinto dietro Ma il motivo È semplice Perché in Star Wars Quando loro non vogliono Spiegare una cosa Tagliano Qui lei arriva E c'è un taglio Però io faccio presente Una cosa Che in Star Wars Anche nella trilogia originaria L'hangar È sempre Da sempre sul vuoto No Però c'è una barriera C'è una barriera C'è una sorta di barriera Energetica Certo Vabbè Allora Dato che ne stiamo parlando Io direi Di far Volevo farvi vedere Un'altra delle scene Sempre della nuova Trilogia Dato che avevo parlato Per l'appunto Della sopravvivenza Nello spazio E quant'altro Questa è la scena Super criticata Del Di Rogue One Dove c'è Vabbè A parte che è una scena Della Madonna È bellissima Quando l'ho vista Io ero in piedi al cinema E applaudivo Così Bellissimo Questo coglione In piedi al cinema Che applaudivo Sì Non me ne frega un cazzo A parte che Io ero dietro Il coglione Dietro di lui Che urlava Calcolato Cioè Ma che stai Cioè A parte che Quando vedi Apparire Darth Vader Non puoi Che applaudire E dire Sì cazzo Ma è bellissimo Perché prima appare la spada Capito Cioè La luce della spada Illumina la scena Ma più figo di questo Che voi Ma anche per esempio È totalmente inaspettato Cioè non è che Che c'è una presentazione Appare questa cosa E tu dici Porco cane Lo sto vedendo davvero Io ero super gasato Questa è la scena Dove hai capito Tu dici No ti guardi intorno Dici sta succedendo davvero Cazzo Sei sei Che te la rivedi Cento volte Per quanto è figa E qua arriviamo Al punto Carlin Adesso No vabbè Siamo arrivati Eccolo Come se fosse Il balcone Di casa sua Lui si affaccia Nello spazio Così Però tecnicamente Parlando Mentre prima C'era il problema Di Leia Leila Dipende che nome Gli diamo Tra l'italiano E l'inglese Leia Era all'aperto Cioè A pelle nuda Verso il vuoto spaziale E quella cosa Che le mettono In faccia Credo che sia Mauro L'acqua Che esce Dai suoi pori E che brina Sulla pelle Che in teoria È quello Che dovrebbe Più o meno A spanne Succedere Se non fosse Che dovrebbe Espellere Tutta l'acqua Del suo corpo Da tutti i pori Del suo corpo Quindi farebbe Una fine spiacevole Ti posso dare una domanda Non dovrebbe anche Congelarsi Dovrebbe congelarsi C'è un minimo Di tempo Nello spazio aperto Diciamo Meno 270 Gradi A spanne Meno 273 Virgola 15 Allo zero assoluto È un poco sopra Ma Darth Vader In teoria Ha una tuta Pressurizzata Perché Darth Vader Gli mancano gli arti E quindi Credo che la sua tuta Sia pressurizzata Tipo quelle Dei piloti Da caccia Per aiutare La circolazione E tecnicamente La tuta Pressurizzata Potrebbe anche Mantenerti in vita Il problema È che non ce l'hanno Quelli dietro di lui Perché quelli Dietro di lui Come viene mostrato Sempre I troopers Hanno semplicemente Un'armatura Di boh Loro se vengono colpiti alla spalla Muoiono In molti film Vengono colpiti alla spalla Muoiono Tra l'altro Scusami I blaster Tecnicamente Cauterizzano Quando colpiscono Quindi In realtà Non sono Cioè Sono un'arma Che non dovrebbe fare Così tanto danno A meno che non colpisce Un punto vitale Perché sei mai stato colpito Tu No Continuamente Il lol1 Che ha risposto Ma è facile spiegare Ci sono gli scudi Attorno alla nave Ma infatti Questo che volevo chiedere a Luca In un In un Come dire In questo contesto ipotetico Sì Come potrebbe funzionare La gravità di queste Di queste Cioè Come Come pensiamo Allora La domanda Aspetta esatto La domanda è Partendo dalla realtà Ovvero Come pensiamo di realizzare La gravità artificiale Nell'immediato futuro Dovresti accelerare continuamente Il che poi è fisicamente impossibile Perché a un certo punto Raggiungi un Un limite massimo No La cosa che ci si A cui si pensa È Stile 2001 Odissea nello spazio La Diciamo L'astronave Con una ruota Che può Roteare Il problema vero Di questa cosa È che per fare una gravità Che sia circa uno A parte che ce l'hai solo Sull'esterno della ruota Non su tutto il resto Dell'astronave Come poi ogni tanto Nei film piazzano Cioè hanno messo la ruota Allora c'è La gravità ovunque Il problema È che la ruota Più è piccola E più deve roteare veloce Per mantenere circa Un g di gravità E quindi O fate delle ruote enormi Con diametri di centinaia di metri O quella roba Deve girare decine di volte Al secondo Uno Non lo fate Ma due Togliete gli oblò Se metti un oblò Cosa che c'è in tutte le navi Della fantascienza E questi vedono decine di volte Al secondo La roba che ruota Vomitano l'anima Tempo dieci secondi Quindi ecco Però è l'unica cosa Con cui potremmo fare Mentre lo scudo Spaziale Deflettore Che poi magari Teneva Diciamo L'ossigeno E tutto Dentro la nave Quello è stato teorizzato Da un gruppo Di Dottorandi In realtà C'è un solo problema Che se fate uno scudo Deflettore Per deflettere Dei laser Ad esempio Cosa che in teoria In Star Wars Fanno Tu devi prendere Delle onde elettromagnetiche Che vadano a interferire Con quel laser Quindi che debbano avere Una determinata lunghezza d'onda Ma così facendo Siccome laser è luce Tu devi trovare qualcosa Che annulli la luce Vuol dire che stai annullando Tutto ciò che c'è fuori da te Quindi non vedi niente Non vedi niente Non vedi niente Cioè lo scudo deflettore Lo puoi fare Ma poi sbatti su qualunque cosa Perché fuori Non vedi niente In generale Sì è impossibile farlo Se non che poi La nostra testa Funziona Che dopo Qualche ora Decide che è Sopra tutto ciò Che sta vicino Alla tua testa Sotto tutto ciò Che sta vicino Ai tuoi piedi Però ci può mettere Ore o anche in realtà Fino a giorni Infatti gli astronauti Vomitano Tutti i primi Ore Barra giorni In cui vanno in orbita E poi il cervello Si setta Che qualunque cosa Ti sta per sbattere Sulla testa È sopra Dato che stiamo parlando Di persone Che Persone nello spazio Ecco Una delle cose più Fighe Che ricordo Anche della fanciullezza Era la mia convinzione A causa di determinati film Che se tu vai nello spazio A un certo punto Esplodi Eh ma perché sono Quei luoghi comuni Capito Che dopo un poco Diventano proprio Radicati Ti si radicano pure nel cervello È un po' come il camaleonte Che cambia colore Che il camaleonte Non cambia colore Per mimetizzarsi Eppure continuano A utilizzarlo Nei cartoni animati Poi a un certo punto Tu cresci Ti dicono che Non è vero E tu Ci rimani male Cambia colore Sì però Ci ha determinati colori E sono più per comunicare Lo stato d'animo Ad altri esemplari Uno dei film Che mi aveva causato Più problemi Proprio nella mia concezione Dell'esplosione Era Atto di forza Dove c'era questa scena Su Marte Dove Non me la scorderò mai Che poi i pupazzoni Che si comano Io li amo Questo era a metà anni 90 Quindi era L'apice Della tecnologia Per quanto riguarda Animatronics E pupazzi E tutta questa roba Perché poi Sono stati sostituiti Della CGI Nel 93 Quando è uscito Jurassic Park Comunque non capita Su Marte Ecco Parliamo di questo Parliamo dal punto di vista Scientifico Se io Domani Per sbaglio Mi dovessi ritrovare Nello spazio profondo Senza Una tuta Proteggermi Eccetera Cosa dovrebbe succedere? Intanto Spazio profondo E atmosfera di Marte Sono comunque due Due ambienti Un attimo diversi Partiamo da questa cosa Nello spazio profondo Come si diceva prima Tutta l'acqua Che è presente Nel mio corpo Che è tantina Viene espulsa Da tutti i miei pori Per sostanzialmente osmosi All'esterno C'è il vuoto E quindi C'è un Viene risucchiato Tutta l'acqua E quindi La prima cosa Che viene Espulsa È la Che è la cosa più facile Da separare dal resto Esattamente L'idea alla base Dell'esplode tutto È giusta Paradossalmente Cioè C'è il vuoto E quindi La pressione interna Del mio corpo Spinge talmente tanto Che poi va a esplodere Il problema è che In realtà Il nostro corpo Resiste È l'acqua È l'acqua dei tessuti Che viene Espulsa Quindi è quella La questione Marte ha la stessa Atmosfera Che aveva Felix Baumgartner Quando si è gettato Col progetto Quello Red Bull Da Da 35 km di quota Quindi in realtà Voi per un minutino Vivete quasi Decentemente Su Marte Senza la tuta Poi morite Surgelati Perché comunque Fa freddo Ci sono meno 80 gradi Però Diciamo che Non è lo spazio profondo È un attimo meglio Quindi Espellete Probabilmente Vibrina la faccia Ma non Non vi risucchia Tutta l'acqua Un minutino Iavo Stiamo fatto Un minutino Se non ti interessa Vivere di più Devo dire È una morte Orribile C'è l'acqua Da tutti i pori Ma dal punto di vista Fisico Non è sbagliato Cioè in teoria Tu dovresti Se noi fossimo Dei palloncini Se noi fossimo Diciamo Delle cose Molto più elastiche Molto diverse Dagli esseri Fibrosi e carnosi Che siamo Il lol ciao E in teoria L'espansione Sarebbe un concetto Non errato Il problema è che Poi noi non siamo Così È solo che non siamo Quella fisicità Lo sono i polmoni I polmoni Ti esplodono Però all'interno Della cassa toracica Appunto Non è che ti gonfi Tutto Quindi fai tipo Tu Sì Fai tu E nel frattempo Però hai il problema Dell'acqua Che stai perdendo Da un momento Beh Una volta che Ti esplosi i polmoni Credo che il problema Dell'acqua Sia abbastanza relativo Ad esempio In The Expanse Fanno vedere una cosa Che invece Non fanno vedere Ad esempio In Leia Che è fuori Il fatto che Se siete esposti Nel vuoto cosmico A una stella Vi si brucia Vi si brucia la faccia Perché le radiazioni Comunque Vi bruciano Non c'è un'atmosfera A proteggere Nello spazio Si fa da meno 150 A 150 A seconda che ci sia Luce o buio Quindi se avete La luce Sono 150 gradi Sulla pelle Quindi diciamo Che se non ti uccide Il freddo L'atmosfera L'acqua Che esce fuori Comunque un bel cancro La pelle Non te lo lega nessuno Comunque molto divertente Vedere come l'universo Lo spazio In tutti i modi Cerca di ammazzarti Beh certo In tutti i modi Possibili e immaginabili Cerca di ammazzarti E noi ancora Siamo così Cocciuti In un modo In un altro Ma tu non vederla così Siamo ancora qui Tu non vederla così Il modo in cui devi vederla È che in realtà L'universo Non è fatto per la vita E questa è la vera L'approccio Cioè nell'universo Non dovrebbe esistere la vita Noi siamo una casualità Motivo per cui È difficile trovare Altre forme di vita Ma anche batteri Anche unicellulari Da altre parti Perché le condizioni Da botta di culo Che noi abbiamo trovato Qui sulla terra Che ha permesso Proprio di arrivare Qui dove siamo oggi Sono delle condizioni Da botta di culo Non è la prassi Noi siamo l'eccezione L'universo non è che Siamo noi che siamo Cocciuti Che vogliamo vivere Ma perché cazzo Doviamo vivere Un po' come i pandan Che tra l'altro Poi è una delle tre Tre risoluzioni Al paradosso di Fermi No Il concetto Che in realtà La vita è molto Molto più rara Di quello che crediamo Perché alla fine Poi esistono In realtà Una quantità infinita Considerando La grandezza dell'universo Una quantità Non infinita Ma molto grande Di posti simili 2 mila miliardi Di galassie Stimate E 600 miliardi Di pianeta Galassia Quindi Quindi la probabilità Ci sono diversi pianeti Con l'acqua Per esempio C'è acqua Ce ne sono tanti Sì Beh sì Statisticamente è probabile Insomma Quello è il discorso Statisticamente è probabile Però considera Che una delle risposte Appunto al paradosso di Fermi È l'equazione di Drake Che stima quante Civiltà capaci di comunicare Con l'esterno Ci sono al momento Nella nostra galassia E si stima Che siano tipo 8,8 Quindi 9 Di cui una siamo noi Beh 8 Però 8 su 200 miliardi Di stelle Vuol dire Che se tu punti Una stella Aspettandoti Un segnale Che arriva da lì La probabilità È 0,000000000044% Buono Auguri Buono E così Poi avevo sentito Che ogni tanto Si becca qualche segnale radio Un po' strano Però è molto più probabile Più che sia una forma Di comunicazione aliena Più probabile Che sia una nostra Forma di comunicazione Torna indietro Perché sono talmente Piene di rumori E casini vari Ma anche Comunque ci sono Diversi fenomeni fisici Che producono Dei segnali Noi abbiamo deciso E l'abbiamo deciso Arbitrariamente Che per essere Un segnale alieno Deve avere Determinate caratteristiche Tra cui il fatto Che si ripeta Sì l'abbiamo deciso Tra l'altro Noi a caso E quindi Finora L'abbiamo scartati tutti Ce n'è uno Che adesso È interessante È arrivato Qualche mese fa Non abbiamo ancora Ben scartato L'ipotesi alieni Che non vuol dire Che saranno alieni Vuol dire Che solo Non abbiamo ancora Ben capito Cosa l'abbia prodotto Però se uno Vuole sperare Io punterei Su questo Gli altri Li abbiamo già Quasi tutti scartati Giusto per citare Shilat In chat Sicuramente Sarà una comunicazione Di radiomaria Che torni indietro Questo è probabilissimo Il radiomaria Il 100% Chi se lo dice Che gli alieni Non hanno una propria Radiomaria È la nostra Ci chiedevano tra l'altro Ma meglio Insomma La morte dello spazio O l'Australia Ovviamente lo spazio Cioè L'Australia No Comunque Vabbè Su quel discorso Considerate che noi Siamo l'unica forma di vita Intelligente Del pianeta Intelligente Che non significa niente Con la nostra Livello di Diciamo Di comprensione Come per gli alieni Che abbiamo deciso noi Cosa significa Intelligente No però voglio dire Noi siamo l'unica Forma di vita Dopo quasi 4 miliardi e mezzo Di anni Di vita Del pianeta L'unica Mai esistita Con il nostro Livello di Concezione Se esiste una forma di vita Non sarà intelligente Non ci potremo parlare Al Mi sento di Ospicare al 99,99% Quindi Quello è Ovviamente Noi cerchiamo I segnali dello spazio Magari Luca È più fiducioso Di trovare Insomma Qualcuno Non mentre sono in vita In realtà Però Ci provo uguale No vabbè Cioè se io penso Un pianeta Uguale alla terra In cui In realtà La nascita della vita Non è così rara Si è scoperto ad esempio Che la vita sulla terra È nata Abbastanza velocemente Considerando quando è nata la terra Cioè Ci abbiamo messo pochissimo Però poi per arrivare a noi E quello è il discorso Cioè Che culo devi avere Per arrivare a qualcosa Che Buona fortuna Comunicare Con un organismo Monocellulare Anche perché Per un intero pianeta Ci siamo soltanto noi Se tu pensi che ancora Noi non abbiamo Cioè Noi viviamo da Milioni di anni Con animali Attorno E mica abbiamo capito Come comunicano gli animali Quindi perché Perché dovremmo capire in breve tempo Ma perché Perché non hanno interesse A comunicare Quei pezzi di merda Però voglio dire Io sento il cane abbaiare E mica ho capito Cosa mi sta dicendo E considerando che ci vivo Assieme sulla terra Da centinaia di migliaia di anni Col cane C'erano più probabilità Che io imparassi A parlare col cane Piuttosto che con L'alienino Polpoide Tipo Arrival Che mi parla Dallo spazio Io voglio parlare Di una cosa Che mi sta molto a cuore Una cosa che ho sempre Sognato fin da bambino Ovvero La morte nera Ho sempre Sentito il bisogno Hai sempre Sognato un'arma Che distrugesse pianeti No ma è bellissimo Cioè Prova a pensare Tu c'hai un pulsante Lo premi Esplode tutto Un pianeta Bellissimo Tra l'altro In Rogue One Si vede che L'arma precedente Della morte nera Comunque bruciava Una città E la domanda è Chi è che ha pensato No una città Non basta Voglio il pianeta Perché Chi dovevi spaventare Più di Ho un'arma Che brucia una città In un secondo Un pianeta È più bello Vabbè scusami Pombarrida Benvenuto Però sì Obiettivamente La cosa che Su cui noi non ragioniamo Cioè Pelo meno io da piccolo Non ci pensavo troppo Su questa cosa È un cazzo di pianeta Cioè è un po' come se A te dessero La terra Ti dico Ok È tua E c'è un cannone Buon divertimento E ora cosa Da dove inizio Ho bisogno di qualcuno Che mi dia una mano Xiyan Benvenuto Cioè non è più Un equipaggio Vi leggo qualcosa Che mi hanno girato A parte che ci vogliono 19 anni A quanto pare Per costruire La morte nera All'interno Della saga Cioè voglio dire Nella relazione Ci sono avuti 19 anni Ma Per far funzionare Tutti i suoi servizi Interni Soltanto quelli Serve Servono 1,7 Milioni Di dipendenti 1,7 Milioni Che sono Quelli che sono morti Quando Luke Ha tirato Il razzetto È un genocidio Per usare Il Poi anche il povero Cristo Che stava pulendo I bagni Nel senso Lui Che era costretto Dall'impero Ed è morto C'era il famoso Discorso di Clerks No? Il famoso discorso Di Clerks Di Steve Smith Ovvero Gli appaltatori Della morte nera Quelli che Nel senso La morte nera Non avrà usato Gli stormtrooper Per costruire La morte L'impero Non ha usato Gli stormtrooper Per costruire La morte nera Avrà appaltato La costruzione Dei poveri appaltatori Di tatooine Magari E quindi Quando Luke Nel Secondo Distrugge Nel terzo Scusatemi Distrugge La seconda morte nera Che è ancora In costruzione Ha ucciso Tutti quanti Questi poveri Lavoratori Innocenti Ebbene sì Ebbene sì È un problema E noi lo trattiamo Come un eroe Vedi perché A me piace anche L'ultima trilogia Perché loro hanno provato A mettere questa chicca Di Piccolissima Proprio una chicchetta In cui sottolineavano Il fatto che in fondo Sono in guerra Chi sono i buoni Chi sono i cattivi Si scopre che Quelli che stavano Vedendo le armi All'impero Erano gli stessi Che vedevano le armi Ai ribelli Allora lì Capito Cominci a scattare qualcosa Nella mente Però ovviamente Poi lo lasciano stare Perché Tutti fai il tifo Per i buoni Però lì inizi a capire Come funzionano le cose Considerando quanto è grande La morte nera Potrebbe avere una gravità Sua Ha una sua atmosfera Beh Sì ce l'ha Ce l'ha Più che altro Perché nel reattore È prevista in teoria Che ci sia ipermateria Che è una materia Che loro si sono inventati Ipermateria Che hanno recuperato Dall'iperspazio È una porcheria Comunque a parte questo È il motivo Per cui ufficialmente Luke spara I razzi Paralleli Alla superficie Della morte nera E questi deviano Di 90 gradi Perché quel condotto È uno sfogo termico Che porta al reattore Nel reattore In cui c'è il grosso Della materia E quindi c'è La trazione gravitazionale In teoria è quello Però il problema Di tutto questo È che in teoria Chi sta ai livelli Sotto della morte nera Dovrebbe stare a testa in giù Cioè se la gravità È al centro Della morte nera Vuol dire che tu Man mano ti sposti Dovreste avere dei livelli A cipolla Non Ma sono sicuro Che loro non l'abbiano considerato Perché alla fine Noi non Non lo vediamo Questo No però I disegni tecnici Della morte nera Ci sono Perché qualche Disagiato E sono A strati Cioè A piani E quindi in teoria Abbiamo una tecnologia Che tu non conosci Va bene Giusto No no Ma questo è sicuro La cosa bella Della fantascienza È che qualsiasi cosa Si conclude con È una tecnologia Che non sai Magari quelle bombe È così come le spade laser Esatto Eh già Le spade laser È una cosa Che già da Ci arriviamo Comunque Comunque Dicevo E poi Si stima Che sia costato Qualcosa tipo 852 Quadrilioni Di dollari Chi l'ha finanziata Tra l'altro Quella stima È stata fatta Da dei Ricercatori Di un'università Di un dipartimento Di economia Di un'università Che non c'avevano Un cazzo da fare Immagino Che non c'avevano Un cazzo da fare Che basandosi Sulla costruzione In acciaio Ok Ma quella stima È stata ripresa Dal governo Statunitense Perché C'è stata Una Petizione Su un forum In cui La Casa Bianca Aveva detto Qualunque petizione Raggiunga 250.000 firme Su questo forum La discutiamo Ufficialmente E quindi Uno ha fatto Una petizione Per chiedere Al pentagono La costruzione Della morte nera 250.000 nerd L'hanno votata Ovviamente E quindi Il pentagono Si è dovuto Esprimere E ha preso Quella stima Degli 852 miliardi Che sono tipo 13.000 volte Il PIL mondiale Hanno detto Non abbiamo i soldi E comunque Non li useremmo Per finanziare Un'arma Di distruzione Di massa Perché Gli Stati Uniti Promuovono La pace Questa era La frase Divertente In realtà Certo Ma soprattutto Una volta Che potete usare Per cose serie Che vergogna Qui abbiamo Lo scorso anno Prima che venisse Scacciato Il Trump Non aveva detto Una cosa Tipo Che lo spazio Era suo Cioè Che stava creando Questa forza Gli Stati Uniti Soprattutto Per la questione Mining Degli asteroidi Cioè Sfruttare gli asteroidi Dal punto di vista Delle miniere Di estrazione Di materiali Trump ha detto Più volte Che funziona Nella sua testa A Chi arriva prima Meglio alloggia Quindi chi prima arriva Eh ma questa è una cosa Di cui presto Stiamo già parlando Stiamo già parlando Di fantascienza Dobbiamo parlare Pure delle puttane Di Trump No beh Però il mining Degli asteroidi E' una cosa che viene prevista Entro vent'anni Quindi non è troppo fantascienza Sì ma no C'è stare che questa è una cosa Che dovremmo affrontare Molto presto Perché L'esplorazione spaziale Sta procedendo Molto velocemente E prima o poi qualcuno Si dovrà fare domande Tipo Marte a chi appartiene Se uno stato Si possessa di Marte Come funziona Su Marte Che leggi valgono Se tu pensi Che hanno provato Quale la legge marziale Su Marte C'è la legge marziale Cioè se io uccido Qualcuno su Marte Cosa succede Non sto scherzando Perché da punto di vista giuridico Non c'è una risposta chiara Al momento E' una cosa che dobbiamo affrontare Beh tu pensa Che c'è stato L'altra volta Il primo reato Sulla stazione spaziale Internazionale Stanno discutendo Giuridicamente Cosa è successo Cosa è successo È un astronauta Un astronauta Ha hackerato Tipo una collega astronauta Perché si odiavano A morte E non si sa Chi possa sporgere denuncia Perché in teoria È territorio internazionale Cosa abbiamo visto La costruzione Della morte nera Tra l'altro Un altro dato Che a me fa Ma fa molto ridere È che A quanto pare Per mantenerla In funzione Quella affare Costerebbe 7,8 7,8 Ottilioni Di dollari Al giorno Quindi vabbè Considerate questo Ma soprattutto Che usare Il laser Per distruggere Un pianeta Una sola volta Per un singolo shot Costa 8,8 Ottilioni Di dollari Economica Comunque E in più non funziona Ti piace Farli Distruggere Perché Non funziona Il laser della morte Il laser della morte nera È fisicamente Sbagliato tutto Allora Se voi Guardate La morte nera 1 Ha 8 fasci laser Che si fondono In 1 La morte nera 2 Ne ha 7 Non ho capito Perché Gli ne hanno tolto 1 Comunque Perché Costava troppo 8 Cambiata la tecnologia Cambiata la tecnologia Se voi prendete 8 fasci laser E li sparate Verso un punto Questi non è che si sommano In un unico Che tira dritto In realtà Si passano tutti attraverso E quindi voi A raggera State distruggendo La vostra flotta stellare Però quanto è figo Vedere i raggi Scusami Ma non c'è magari Un prisma Lì al centro E no Non c'è niente A meno che Noi non lo sappiamo Ma lì Non c'è niente Vedi Perché noi non sappiamo La loro tecnologia Potrebbe esserci Un singolo cristallo Certo Tra l'altro Comunque faccio presente Che nello spazio vuoto Il laser non si vede Ci tengo a dire Questa cosa Non lo vedrei Cioè il laser Si vede solo Se c'è del particolato Davanti Che riflette qualcosa Quindi nella nebbia Nel fumo Vedete il laser Che è uno dei problemi Della spada laser A cui poi magari arriviamo La lama è trasparente Quindi voi vi amputate Un arco Sguainandola Se voi sparate Con un cannone laser Il laser non si vede Cioè lo vede chi Se lo becca puntato Per una frazione di secondo Gli altri lateralmente Non vedono il laser Se voi prendete Un puntatore laser E vi mettete lateralmente Vedete un puntino Sullo schermo Ma non è che vedete Il fascio laser Certo Ecco io adesso Vorrei capire una cosa Però Prima di andare avanti Con tutta la questione Dei laser C'è il laser Filmico Si Che è un'arma E poi c'è il laser Che viene usato allo stadio E poi c'è quello Che viene usato Per le operazioni Agli occhi Esatto Laser significa tutto Significa Il fascio di luce Molto concentrato Pascio di luce coerente Cioè con una determinata fase Nel senso che non si contraddice Si Certo Esatto No la domanda è Un laser Come arma Esiste Nel senso qualcosa di Abbastanza potente Da fare un danno Perché lo dico Per esperienza personale Purtroppo Perché non lo usiamo Perché non è un'arma diffusa Non vengono usati come arma Ma i laser Che possono far male Tra virgolette Vengono usati Per esperimenti vari Scientifici Certo Cose vari Ci sono gli esperimenti Che facevo mio professore Ad esempio usando un laser Era molto potente E lui aveva sempre Una linea Sulla A livello Della giacca Qualsiasi cosa avesse Lui aveva questa linea Ed era perché Ogni tanto se ne dimenticava E ci passava davanti Non sto scherzando Ovviamente se ci rimani Un po' di più Inizia a farti male Se ci passi velocemente Ti sbruciacchia Nel punto in cui Insomma sei passato E basta così Però ovviamente dipende Però in realtà L'esercito degli Stati Uniti Ha creato un cannone laser Alla modica cifra Di 40 milioni di dollari Però ne valsa la pena Ne valsa la pena Soprattutto perché Volevano abbatterci Dei satelliti Hanno fatto una prova Con un loro satellite E si è rotto il laser Mentre sparavano Però ce l'avevano E comunque È un laser 660 volte Inferiore Come potenza A quello di una spada laser No però quindi Il concetto è che Una capacità Di concentrazione Di luce tale Da fare anche Solo un danno Come dire Abbastanza significativo Ad un essere umano Non esiste Non ce l'abbiamo No c'è c'è No ce l'abbiamo C'è 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 Andiamo Però è un pulso Sì o cacchio Ah ok può fare Un colpo Perché c'è il laserone Perché vengono pulsate Al momento Abbiamo un laser Da 2 petawatt Credo che sia il record Cioè che sono tipo 20.000 20.000 Megawatt E quello si può fare Però spara un Coso solo E immagino Abbia anche una Come dire Una dimensione Non trasportabile Ha una dimensione scomoda Da portare in giro Sì è tipo una stanza Non ci entra in tasca Però vedi Anche lì Cioè Sono cose inimmaginabili 20 anni fa Cioè andando avanti Diventerà sempre più applicabile Però in realtà Ci sono delle tecnologie Che sono molto più terra terra E anche molto più economiche Ovviamente il laser Ha il vantaggio Dalla lunga distanza Però più si allontana E più si disperde Perché per quanto sia Insomma Focalizzato Da piccolo Da piccolo Quando scopri Che il lettore cd È un laser Sostanzialmente Che legge Il cd Il futuro Oddio No no C'abbiamo un'arma Dentro casa Perché vedendo i film Mio zio mi spiegò E dice Ma guarda che c'è un laser Che legge il cd Come un laser Cioè è una buca Blu ray È un laser blu È un laser blu Esatto Non è un laser Va bene Però molto spesso Nei film di fantascienza Vengono usate in maniera Come dire Molto Intercambiabili Le parole Laser E plasma Anche se sono ovviamente Due cose completamente diverse Perché No il plasma È una È un gas Incandescente Ionizzato Che peraltro È la più diffusa Nell'universo Visto che le stelle Sono fatte di plasma E quella È una cosa invece Cioè nel senso Io sto cercando di arrivare a Esiste una versione Perché effettivamente Tu pensi Se io ho un laser Perché dovrei Dirigere una quantità Di energia costante Ad un punto In effetti Non ha senso Dovrei spararne Un unico impulso E basta E invece le armi al plasma Che cosa dovrebbero fare? Ma no Nelle serie Le armi al plasma Sono le armi al laser Semplicemente Le armi al plasma E lo sto dicendo Cioè nel senso Non ho la parola Immaggia Come computer quantistico No Una cosa quantistica Il plasma Il plasma è gas caldo Quindi se tu riesci A indirizzarlo Verso qualcosa Hai 10.000 gradi Che colpiscono qualcosa Il problema è che in realtà Non riesce a creare O meglio Nel vuoto Il sole riesce a creare Delle bolle di plasma Che spara in giro E sono quelle che da noi Poi fanno l'aurora boreale Quando sbattono Sull'atmosfera Quelle sono bolle di plasma Del sole Che ci arrivano Però tu sulla terra Noi non abbiamo trovato Nessun modo Per creare Delle bolle di plasma Da sparare a qualcuno La spada laser Qualcuno dice Se è una spada al plasma In realtà no Altrimenti La spada plasma Luca scusami Perché come dicono in chat Effettivamente Poi questa cosa Del laser Della morte nera Che non funzionerebbe Però Se puoi Però Io ho visto Dei matti su youtube Che hanno creato Questa sorta Di spada laser Che poi non è proprio La spada laser Perché Una fiamma Una cosa È una fiamma Di gpl Tra l'altro Alimentata gpl Quella che hanno creato Chiamando la spada al plasma Quindi è una fiamma In realtà È una fiamma Molto ben Focalizzata Ed è però Gpl Hanno la bombola dietro Esatto Quanto meno Quindi quella Quina Eh sì Certo Potevano farla Al diesel Potevano farla Certo Certo C'è meglio Costa meno Il problema Costa meno No il problema Del È che Il gpl Essendo che Esce all'inizio Liquido Cioè gpl È gas Persorizzato Liquido Riesce a fare il getto Esatto Che è il motivo Per cui fanno Riescono a fare il fascio Diciamo Il problema Del plasma vero È che il plasma vero Dovrebbe essere gas Racchiuso in un cilindro magnetico Esatto Ma a parte che il cilindro magnetico Blocca il gas Ma non il calore Quindi se avete una roba A 10.000 gradi E ve la mettete vicino alla faccia Dite ciao Alla faccia Esatto Ma poi Anche le mani Banalmente Che tengono la Ma il problema È che Se c'è il tubo magnetico E c'è un altro tubo magnetico Voi incrociate due tubi magnetici Tipo i flussi Di Ghostbusters Mai incrociare i flussi Mai incrociare i flussi I due campi magnetici Fanno una cosa Che si chiama Ricombinazione magnetica Cioè creano un nuovo terzo campo magnetico Ma nel farlo Espellono delle bolle di plasma Quindi voi siete lì a lottare C'è una bolla di plasma A 10.000 gradi Che vaporizza entrambi Però poi ci sono Le due spade laser Al plasma Che rimangono lì Ma sai che figata Chi se ne frega Cioè te ne vai col botto Cioè proviamo a pensare Già immagino Cosa in grado di Fare quello Che fanno normalmente Le armi laser Le armi plasma Quello che cazzo sono Come le vogliono chiamare Sia nell'universo di Star Wars Che nell'universo Generale della fantascienza Ovvero Un Come dire Un qualcosa Che appena tocca Un Un altro elemento Può Tagliarlo Può Andargli attraverso Può Semplicemente Vaporizzarlo La cosa che mi da più fastidio A me Della spada laser Ma ci pensavo già Quando ero bambino Quando Vedi per prima volta Una spada laser E Quello è un laser È una cosa Cioè È un laser Che finisce Come finisce Cosa c'è A bloccarlo Cazzo Tu fai una spada laser Dovresti avere un torcione laser Che ti Sbrindella La stanza Hai una lama Infinita La Finita Tu fai così E spacchi il pianeta Tranquillamente Cioè Il pulsantino Per La potenza Capito Quanto la vuoi lunga La spada laser C'è il pulsantino Ma soprattutto C'era un video Mi ricordo Che cazzo C'è in quell'affare enorme C'era questo video comico Che faceva vedere Tecnicamente Considerando che poi La spada laser Può tagliare qualsiasi cosa E facendo vedere La maniera in cui risolvere Il primissimo star wars Se obi one Avesse semplicemente Preso la spada laser L'avesse girata E lasciata cadere E quella Avrebbe bucato Tutta quanta La morte nera Semplicemente Però è molto strano Perché anche lì Non è chiaro Nell'universo di star wars Qual è l'effettiva potenza Di questa spada laser Perché a volte Taglia qualsiasi cose Qualsiasi cosa Però è stato calcolato 20 megawatt Ok Perché c'è una scena Della minaccia fantasma In cui Qui-Gon Jinn Prende la spada E la pianta E la pianta E la pianta E la pianta Si squaglia Sono 20 megawatt Cioè 15.000 abitazioni Come Tutti in una batteria così Potreste La terra con quella La energia green È in eterno Ma loro Ci hanno fatto una spada laser Per i cazzo di monaci spaziali Perfetto La verità è che Come dire L'unica maniera Che abbiamo trovato Fino adesso Per prendere dell'energia Impacchettarla Ed usarla Per fare un danno È la migliore Che abbiamo trovato Ovvero Prendere una cosa E lanciarla Molto molto forte Contro qualcun altro Siamo ancora Siamo ancora A quei livelli Effettivamente Una fioda Una fioda Una fioda più tecnologica Sono universitario Che ha proprio detto Che più che accelerare Cioè Creare tutto quel fascio Di energia Per la morte nera Ti conviene Usare molta meno energia Per prendere Degli enormi asteroidi E lanciarli sui pianeti Ti costa molto meno Fai prima A proposito Di spappolare i pianeti Allora La roba della morte nera Che dicevamo prima Io ho sempre immaginato Sempre pensato Che fosse un laser Talmente potente Per distruggere un pianeta Da riuscire a Bucare la crosta terrestre Di qualsiasi pianeta E andare dritto 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 Fino al nucleo E fare E quello Permetteva l'esplosione Cioè il fatto Che quel laserone Laserone Chi ha visto Austin Powers Sa cosa intendo Buca il pianeta Fino ad arrivare Al suo nucleo Cambiando in qualche modo Che so La temperatura Facendo qualcosa Di brutto E poi Il pianeta Esplode Dal suo interno Questo è quello che Ho sempre ritenuto Vaga Ok il laser Fa questo Tu mi dici Che è impossibile Quindi Ho detto una cazzata Perché ho sempre pensato Un'enorme cazzata Sicuramente sì Però Ammettendo che Sto laserone Potesse esistere Ma anche perché Dubito che basti Un buco Per far esplodere un pianeta Cioè E no esatto L'azione del pianeta Ok boh Finisce là Non è che Crei una bomba atomica Cioè non Scaldi il nucleo Del pianeta Che in teoria È già metallo fuso Quindi è già Buona fortuna È già caldo Sì esatto Però Boh Cioè a parte che Buchi il pianeta Da parte a parte Non vedo perché Deba esplodere Infatti la mia cosa Era Creava qualcosa Faceva qualcosa Nel nucleo Poi è uscito Un film orribile Che si chiama The Core Che dove praticamente È una minchiata Atomica Però mi ha fatto Mi ha divertito tantissimo Perché c'erano questi Cioè ecco La mia idea Se tocchi il nucleo Del pianeta Scoppia tutto E questi qua Il nucleo si è fermato Per farlo ripartire E schiantiamogli dentro Tipo una ventina De bombe atomiche Adesso non mi ricordo Il nucleo si è fermato Perché è un film americano Giusto E si chiama Decorre Con le bombe atomiche Qualsissimo Qualunque cosa La storia era quella Cioè il nucleo Del pianeta Si sta fermando Che facciamo Andiamo a tirargli Tipo una ventina Di bombe atomiche Lo facciamo ripartire Questo era Tra l'altro bombe Se posso Bombe all'idrogeno Ma poi le potenziano Col plutonio E non funziona Perché sono due elementi Molto diversi Ma sai perché Perché Luca Perché l'idrogeno Era una cosa All'epoca Abbastanza nuovo Come concetto Per far pensare Allo spettatore Minchia Ma quindi Una super bomba Pazzesca E dire Le potenziamo Col plutonio Che invece È una roba Più vecchia Ma sai Che è mega Mega potente Quindi dici Minchia Una bomba assurda All'idrogeno E butti pure Il plutonio E che cazzo Che bomba è Il plutonio Se lo metti In qualsiasi cosa Diventava Altamente instabile Ed esplosivo Cioè Ti ricordi L'episodio Di Simpson Dove metteva Ora che ci pensi Era un ragno Metteva Nel telecomando Iniziava Capirsi i portali Perfetto Come Come ritorno al futuro Cioè Tu devi Fare in modo Che Marty McFly Torni indietro nel tempo Erroneamente E che non sia così Facile tornare Nel presente Quindi la macchina La fai andare A plutonio Infatti Nel terzo Nel terzo Dopo che loro hanno risolto Questo problema In maniera molto semplice Dice Vabbè Il problema numero uno Era quello Adesso possiamo Dobbiamo andare avanti Indietro nel tempo Quindi nel due Come funziona Con la spazzatura Prendi Spazzatura organica O quello che Lo butti dentro Nel terzo Che devi ritirare fuori Un problema Sono nel far west Quindi qual è il problema La benzina Cioè Per me è stato Geniale Perché si trova Nel far west Ovviamente Non c'è la benzina E quindi il problema Adesso è che La macchia non funziona Perché non può arrivare A 88 mili orari Perché non hanno benzina Abbiamo una domanda Da parte dell'armageddon Blasfemo 33 Che si scrive Ma la differenza Tra la spada laser E blaster Qual è il livello di potenza No il blaster Spara un colpo Cioè il blaster È una pistola laser La spada laser È un'arma Bianca Che poi Vabbè È l'arma più stupida Del mondo Perché se posso far presente I due vantaggi Di una spada Sono che è silenziosa E stealth Loro l'hanno resa Luminosa E rumorosa Senza raccontare Il fatto che Comunque la spada Di Kylo Ren Poi mi ricordo Quando uscì Tutti quanti Erano Oddio che fica Che fica Qualcuno fece notare Il problema Di avere una guardia Fatta di laser La guardia Tecnicamente Serve a Deflettere I colpi O a incastrare La spada Una guardia fatta di laser È pericolosissima Perché un attimo Che ci infilzi Però quanto è fica Però ricordo Quando fecero tutti i meme Con il coltello svizzero Madonna che bello C'è una curiosità Sul making of Di star wars Inizialmente Se ci fate caso Il primo combattimento Questo perché George Lucas La famosa leggenda Metropolitana Che diceva tutto in testa Non ha cambiato un cazzo In realtà lui non c'era capito Niente Andava a caso Cioè Riguagli un sacco Bene Andava assolutamente A caso Che è il motivo per cui Il combattimento Nel primo star wars Il quarto È estremamente diverso Dal combattimento Del primo star wars Il primo In cui fanno queste capriole Perché Come indicazione Agli attori Dal momento che comunque Per lui era Tratta da Comunque L'epope fantasy I cavalieri Che combattevano Con gli spadoni A due mani Eccetera eccetera Lui aveva detto Ok La spada laser È pesantissima Usatela come se fosse Cioè Se questo unico Piccolo Nucleo Fosse pesantissimo Fosse una spadone A due mani E quindi voi Non potete mai Togliere una mano Infatti Loro combattono Sempre Tenendo ben salda La spada Con tutte e due Le mani Perché per lui Il concetto era Questo è una spadone A due mani Di un cavaliere Del medioevo Evidentemente Questa cosa Poi piano piano Se l'hai dimenticata Secondo me Lui non aveva idea Di che cazzo Di arma figa Aveva creato Perché Una dei Tanti elementi Che fanno funzionare Tantissimo Star Wars Sono le spade laser La prima cosa Che un Di un ragazzino Di un bimbo Che vede Star Wars La prima cosa Che vuole È la spada laser Non c'è nient'altro Vogliono tutti Baby Yoda Però Normalmente Appena vedi Star Wars La prima cosa Che fai Anche per imitare Sai no Tutti facciamo Questa cosa Con i film Che vogliamo Imitare Vogliamo avere La macchina Di ritorno A futuro Star Wars La spada laser Cioè lui Creò Una cosa Super mega Fica Penso Penso che sia Il gadget Più figo Della storia Del cinema Cioè non esiste Un gadget Così figo Nella storia Del cinema Quanto la spada laser E non se ne era Reso conto Fino alla fine Secondo me Perché effettivamente Il laser Lo passi Cederà Invece La spada Quella roba C'ha materia No Quello che sparano Le pistole laser C'hanno Quel raggino lì Che fa Un rumore Orribile Però A materia Quella C'è un proiettilone Così C'è questo Sempre E però Energia pura Quindi Fra l'altro Lui Lui Ferma C'è 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 Una Massa Esatto Il blaster Ma Non Lui 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 Però Lui Può Fisicamente Fermare La luce Sì Lui Tecnicamente Niente Violando La relatività Generale Tra l'altro Se tu fermi La luce Cosa diventa Quello Pensa che Per la luce Il tempo È fermo Per il raggio Di luce Il tempo È fermo Quindi Se lui Poi ferma Il raggio Di luce Cosa succede No Tra l'altro Tecnicamente Quando lui Ferma Quel blaster Con la mano Tutta la luce Dovrebbe fermarsi Tutta la luce Contenuta In quel punto Quindi Semplicemente Dovrebbe Da lì Poi Alla sua mano Dovrebbe essere Tutto buio Tra virgolette Arrivando niente È tutto fermo Un buco nero Lui ha creato Un piccolo Bucco nero Ripeto È la forza Noi non sappiamo Che non ha la forza Ma a questo proposito Io non so se Barba Cioè avevamo Una roba Su MidiGlorian Quella è una roba Che mi incuriosisce Tantissimo Cioè Cioè avevamo Una roba Su MidiGlorian Quella è una roba Che mi incuriosisce Tantissimo Cioè Che cazzo A me questa cosa Che però Tecnicamente Fermare la luce Sì sì Comunque Io sono molto felice Che abbiano cambiato I combattimenti Delle spade laser Perché io Inizialmente Non ero un grandissimo Fan di star wars L'ho rivisto Forse meno di Un otto anni fa Non ricordo E ricordo Che ci rimasi Molto deluso Nella prima trilogia Perché i combattimenti Delle spade laser Secondo me Facevano un po' cagare Cioè siamo letteralmente Parlando Nel primo Nel primo Cioè nel quattro Sono letteralmente Spade che fanno così Episodio quattro Lo fa a cagare Ma anche perché si rompeva Il problema era anche Che per dare l'energia A quella roba Loro avevano dei cavi Che passavano dentro Il Le maniche Del Dei loro vestiti E quindi non potevano Fare più di quello Proprio fisicamente I midi Glorian Sono una cosa Che è stata introdotta Nella seconda trilogia E che ha fatto Incazzare un sacco i fan Forse Forse anche più Di Jar Jar Binks Non vorrei dire No beh no Più di Jar Jar Binks È difficile È comunque Una gara tra campioni Sì Sì Abbastanza strano E quindi Che cosa sono Sono una forma di vita Intelligente E microscopica Che vive In simbiosi Dentro le cellule Di tutti gli esseri viventi Tutte le cose che vivono Anche se poi Sappiamo anche Che in realtà Anche delle cose Che non vivono Quindi vabbè Però vabbè Quindi quando sono presenti In numero sufficiente Possono consentire A loro simbiosi Di percepire Il diffuso campo energetico Conosciuto come La forza E quindi E qui Smarmellano Praticamente tutto Quindi diventa Un boh Cacciara Poi Hanno cercato Di dare una spiegazione Scientificosa A un qualcosa Che in realtà Era evidentemente Evidentemente religioso C'era proprio Una cosa Certo Certo È stato dichiarato Che ha fuso Le tre religioni Monoteiste Per fare la forza In modo che Il pubblico potesse Riconoscersi All'interno Vi ricordo che Anakin è nato Senza un padre Perché la mamma È rimasta incinta All'improvviso Di Gloria stessi Da parte Dei Midi Gloria Non so Chi è il padre Diciamo Uno dei motivi Per cui Questa cosa È fastidiosa Tra virgolette Per il pubblico È che Va un po' A incidere Sul concetto Di chiunque Può essere Può avere la forza Questa cosa Diventa Ok È una roba Genetica Ereditaria Che o ce l'hai O non ce l'hai È la roba del talento Cioè tu sei nato così Può farlo Altrimenti Io non l'ho vista Così Io l'ho vista Più con Chissà chi cazzo È il padre Cioè magari c'è Magari non c'è No certo Però poi così Vuol dire che ogni geni Quindi il lato beautiful Insomma Io ho visto più il lato beautiful Della situazione Esattamente Quindi Questi midi glorian In realtà Nella nostra scienza Sono paragonabili A I A Dei parassiti Simbionti Delle zecche Che belli Bello Quindi ragazzi Voi che volete Midi glorian In realtà Vuole delle zecche Magari Il vostro Parassita Che ci rende Migliori Midi glorian Parassiti No simbionti Che ci rendono migliori Beh Tutta Mi dissocio Tutta la flora intestinale È un Eh esatto Sì Con l'embo senza Direi Esatto No però diciamo Che questa cosa Dei midi glorian È un bel cortocircuito Fra scienza e fantascienza Perché Giorgio Lucas Ha dichiarato Che si è ispirato Ai midi glorian Pensando ai mitocondri Che sono organelli Nelle nostre cellule Che producono energia All'adenosina trifosfato Insomma Una delle energie principali Che utilizziamo E quindi Lui ha detto I mitocondri Producono energia Per le cellule I midi glorian Danno forza Alle cellule Delle persone Questa era L'idea originaria La cosa interessante Che pochi anni dopo La minaccia fantasma Esce nel 99 Con la memoria Una roba del genere Il 99 è 2000 Ma siamo là Sì comunque Siamo là insomma Cavallo del nuovo millennio Nel 2003 Degli scienziati Tra cui un gruppo italiano Il gruppo era La maggior parte italiano Stava studiando Le femmine Delle zecche dure Perché esistono Tre tipi di zecca Le zecche dure Le zecche molli E poi un tipo Che si chiama Tipo nutellilide Che immagino Sia spalmabile Dure molli È ovvio Dure molli E quindi Stavano studiando Le zecche dure E nelle femmine Delle zecche dure Nelle cellule Dell'ovario Hanno trovato Hanno trovato Un sacco di batteri Questi batteri Erano attaccati Ai mitocondri E all'inizio Sembrava si nutrissero Dei mitocondri Delle zecche Cioè li stavano parassitando Poi si sono resi conto Che in realtà Le zecche femmine Avevano un sacco Di questi batteri Le zecche maschi No Quindi doveva esserci Una differenza Fra maschi e femmine E si sono resi conto Che siccome Le zecche femmine Si nutrono di sangue E si gonfiano Come zampogne Per poi Fare le uova Quando si gonfiano Respirano male E quindi Vanno in carenza Energetica E si sono resi conto Che in realtà Midicloria Perché poi questo batterio È stato chiamato Midicloria Perché era un simbionte Delle zecche Perché comunque Sono tutti dei cazzo di nerd Sono dei nerd Sì assolutamente La proteina Che era chiamata Pikachuina Qual era quella lì Che c'era una proteina Che trasmetteva Impulsi elettrici Esatto Sì sì Beh ma è pieno Il primo gruppo Di astrofisici Che ha trovato Un pianeta Che orbitava Attorno a due stelle Secondo te Come l'ha chiamato Tatooine Ovviamente Ma se tu ci pensi Perché un ragazzino Perché un ragazzino Decide di fare Lo scienziato Perché vedete Perché non vedete Il mondo Perché però Luca Cioè per me Ti impulete No Tu sei appassionato A un certo tipo Di cinema Immagino No Che per esempio Se ti dico Explorer No Con film degli anni 80 Tu sicuramente Lo conoscerai Degli anni 80 Con Kevin Bacon Ragazzino E racconta la storia Di questi ragazzini Che Trovano a un certo punto Non si sa come Non si sa perché Arrivano Gli arriva la comunicazione Di questa sorta Di algoritmo E creano questa sfera Che all'interno Possono mettere Delle cose Che non Non ha Nel movimento Non ha problemi Di Inerzia E finiscono Nello spazio Per incontrare Cioè quando da ragazzino Piccolo Bellissimo Tutto lineare Hai detto Nel termini scientifici Tutta una serie De cazzate Però quando da ragazzino Tu ha 10 anni 12 anni Vedi una cosa del genere Dove c'è un ragazzo Poco più grande di te Ma Su cui tu pensi Quello posso essere io Fra un paio d'anni Che sbanetta Con i computer Che Crea questa sfera Che dentro ci mette Un'astronave Praticamente fatta Di Di scarti C'era un televisore C'era una palla Che era Una giostra Eccetera No E Si E va nello spazio A incontrare Degli alieni Che guardano La televisione Che conosco Il nostro pianeta Perché guardano La televisione Cioè Queste sono le cose Che fanno innamorare I ragazzini Della fantascienza E che credo Probabilmente Creino Scienziati O comunque La voglia Di diventare tali Per alcuni Poi non tutti Però Beh certo Io ho finito Il mio pippone Io ci sono passato La bianuncia Per via di Street Sharks Io volevo creare Un esercito Di Io volevo fare Un pezzo di medicina Perché volevo fare Comunque i pokemon Cioè c'era una parte Di me che voleva Creare i pokemon Certo mi sembra Un obiettivo Concreto Creare Concreto Si C'ero io E c'era un amico Che voleva fare Il pilota di aeree Quindi il concetto Vabbè io li creo E tu poi li spargi Nel mondo Certo Però questo è il piano Comunque lo stavi dicendo Su queste zecche Pazzesche No le zecche Praticamente alla fine Si scopre che Questi batteri Non sono appunto Parassiti Ma sono simbionti Aiutano la zecca E quindi i ricercatori Li chiamano midichloria Rifacendosi a star wars La cosa divertente Che poi li studiano Geneticamente E si rendono conto Che sono parenti stretti Dei mitocondri Quindi geneticamente Parlando I batteri E i mitocondri Sono molto vicini E questo è una prova Una delle prove maggiori Che abbiamo A favore di una teoria Che si chiama Dell'endosimbiosi Per cui Tra l'altro Endosimbiosi Credo che Barbascura La conosca meglio di me La teoria Ma è una teoria Per cui i mitocondri In realtà Erano originariamente Dei batteri Fagocitati Dalle attuali cellule Che hanno trovato E non è tanto una teoria Abbastanza Riconosciuta Considerando che c'è Il DNA mitocondriale Che è separato Dal DNA della cellula Cioè Effettivamente Ovvio Mauro Hai capito Però è una cosa carina Perché Giorgio Lucas Si è ispirato ai midichlorian Cioè scusate Ai mitocondri E ha inventato i midichlorian Qualcuno ha trovato Una roba Che attaccava Si attaccava ai mitocondri E l'ha chiamata midichloria Questa midichloria Ha dato una prova Del fatto che i mitocondri Erano batteri A loro volta E quindi in realtà È un cortocircuito Scienza Fantascienza Interessante Ti rendi conto Cosa fa Star Wars Ma vi racconto Un'altra storia In realtà Vabbè Non è così plateale Perché in questo caso Abbiamo trovato proprio Un parente Dei mitocondri E questo è abbastanza plateale Ammetto di non Saperlo Era una figata Però ci sono diversi casi simili Ci sono dei Dei virus Che non sono esseri viventi Ricordiamo Sono delle macchine molecolari Se vuole Degli errori Però Grandissimi rompi Cazzo Anche Vabbè Non sempre La maggior parte di loro Ci fa comodo Perché ammassa i batteri Eccetera eccetera Comunque non sono tutti cattivi C'è un numero limitatissimo Che a noi rompe abbastanza il cazzo Detto ciò C'è uno di questi virus In particolare Purtroppo non ricordo Come si chiami Che Riusciva A far ritornare in vita La cellula Il batterio Morto In cui lui si trovava Perché altrimenti Tra virgolette Moriva anche lui Quindi che faceva Faceva ritornare L'attività del batterio In vita Se gli si era spaccata Una proteina Lui la rigenerava Diceva vai avanti Che a me serve Lavorare È da studiare Questa roba Beh la stanno studiando Tantissimo Perché Erano Delle Delle cellule Che erano state irradiate Con raggi UV Quindi Tutte le proteine Il DNA Si era spaccato In teoria Quindi quella cellula Quel batterio Si era Era morto Il virus Lo ha fatto tornare in vita Lo ha rigenerato Lo ha riparato E detto Continua Io sto sfruttando Questa cellula Per favore Non rompere il cazzo Però Però può essere molto utile Questa è in campo medico Adesso vado in fantascienza Però in campo medico Può essere molto utile Stai già dato una pessima idea Sappiamo cosa succede In genere Le serie Quando si applica Una cosa del genere Sull'essere umano Non ci voglio essere O per lo meno Se ci devo essere Devo avere delle armi buone Io qua non ne ho Al momento Ho bisogno di un fucile Ho bisogno di Non lo so Comunque stasera Abbiamo imparato Sostanzialmente Che Star Wars Se si fosse basato Su teorie scientifiche Sulla scienza vera e propria Non sarebbe mai esistito O comunque sarebbe così figo Ah beh Star Wars Ha più volte Preso la scienza vera L'ha portata avanti Tipo un caso Sono I TIE Fighter Che hanno TIE sta per Propulsori a Ioni gemelli Propulsori a Ioni Esistono Non vedevi l'ora Di tirarlo fuori Ce l'avevi lì Se l'avevo qua Era due ore Che ce l'ha Nel dubbio Anche un millennium falco Io ce l'ho lì Quello Lego Fra l'altro Se non sbaglio Noi il 17 Ci vediamo sul nostro canale Vero Sul canale Slingbox Continuiamo a parlare Di scienza Ovviamente Ma dentro Altri film Non solo All'interno di Star Wars Quindi Scienze i supereroi Scienza Nel Che ne so Robbe strane Iron Man Cose del genere Boh Non anticipiamo La stessa committiva Si rivede Quindi se vi è piaciuta Questa live Ci rivediamo Il 17 Lotti quanti insieme Sul canale della Slim Dogs Dove continueremo il discorso E lo estenderemo Ad altri Soggetti cinematografici Per vedere Se ci sono altri errori O nel caso Come fare E io mangerò un'altra pizza Perché ti arriverai in ritardo Io avevo mangiato Ma mi è venuta di nuovo fame Perché la pizza per me Tipo Mi fa scattare questa cosa Capito Cioè una pizza Cioè due pizza nel congelatore Tu pensa Terribile Pizze vere Che ho ordinato extra Cioè che mi sono arrivata extra Hai congelato Perché non si sa mai Tipo al momento di occorrenza Ah tu ordini delle pizze Cioè non le pizze suggerate No è successo per sbaglio Però ho scoperto essere una cosa Molto intelligente Perché io adesso So Che se voglio Ho la pizza Sì Questa è un'idea geniale Cioè il congelare Prima di dire Che è un'idea geniale Io vorrei vedere il risultato Dello scongelamento Devi saperla scongelare È giusto Dai che è bravo Devi saperla scongelare Cioè unicino Se lo fa a lui Cioè se lui ti dice Che è una cosa Che poi fa E se la magna Io mi fido Cioè si vede Che è possibile Poi magari domani Io non mi fido Di quello che mangia Barba scura Io di lui mi fido Barba domani Ti chiamo Mi spieghi Come cazzo Fare questa cosa Perché io domani Ordino un pacco De pizze E lo tengo Da di congelatore Io ti fai Congelatore Una pizza Desta Probabilmente Tra le varie cose Che sono state dette Stasera Questa Della pizza È la cosa più interessante Allora è successo Però è successo Altre volte Tipo quando Ed è sempre Un piacere estremo Cioè io adesso Posso alzarmi E prendermi un pezzo Di pizza E stanotte Quando andrò a pisciare Alle 4 di mattina Mi posso prendere Un altro pezzo di pizza Però fai una visita All'andrologo Ah? Fai una visita All'andrologo Comunque Perché? Nel senso Se stanotte Alle 4 di notte Poi devi andare Beh non so se hai notato Ma ho bevuto Cioè io bevo In continuazione Ho il diritto di pisciare Cioè non ho capito Il diritto di pisciare Purtroppo anch'io Comunque C'è una cosa strana In chat Tutti non si fidano molto Di quello che mangi Io non ti conosco Così bene Conosco ma non così bene Perché non si fidano? Perché ho immortalato In video Innumerevoli episodi Di Disagio culinario Dalla barretta Di Mars Impanata E fritta A Scusa Chi non l'ha fatto? Cioè chi non l'ha fatto? Io per dire Se vai in Scozia Non sai che ti sei perso Se vai in Scozia Edimburgo Questo è una cosa Che devi provare Però Non la provate Cioè io sono Ho visto chiaramente Il colesterolo O bloccarmi Le arterie Per sbagliare Ho dovuto massaggiare Quelli hanno i midi Chlorian Esatto E i midi Chlorian Si colesterolo Che li hai rincoglioniti I midi Chlorian Cioè con Matteo Bruno Una volta abbiamo fritto Un telecomando Ti ho fritto E buono è tutto Questa è la base Della Ecco mi ricordano La pizza carbonara Che è una pizza Che ho preso a Rostock Che è già Vagia schifa di per sé Con gli spaghetti carbonara Ma tedeschi Quindi erano Spaghetti scotti Con la panna E tutto il resto Senza dimenticarci La pizza burger Hot dog Di Olandese Anche quella notevole Col ketchup dentro Verificante Dentro? Ah? Dentro? C'era anche dentro Si Era praticamente Una pizza Chiusa Ad hamburger Con dentro Gli hot dog E conditi Con ketchup E altre merdate Varie O se volete Farvi del male Provate sempre Il preparato Per carbonara Olandese No grazie Come siamo arrivati La carbonara La carbonara è sagra E' sempre scienza Stiamo parlando sempre di Vicenza Ma io Provo Mi prostro Cioè Provo Provo Cose che Non vorrei provare E' il metodo scientifico D'altronde Cioè devi provare La pizza cazzo Mi ricordano anche La pizza cazzo Cos'è? La pizza cazzo Non potete sapere cosa c'era dentro Quando c'era Quando ero a Pinale C'era questa pizzeria Che si chiamava Pizza cazzo Tra l'altro C'era ancora il bigliettino Da visita Da qualche parte E lì era praticamente Una pizza Che non era male Però era tipo Questa era la pasta E poi il condimento Era questo Cioè proprio una massa Questo è lo strato Del condimento Io ho preso quella La raclette La raclette è buona È formaggio fuso La raclette è buona Tu prendi tutta la raclette Sulla pizza cazzo non lo so Ecco tu prendi La pizza cazzo sottile Con uno strato così Di raclette Che praticamente è Colesterolo Ritorniamo lì E sono le cellule De prima Che se si suicidano Appena vedono Quella cosa Cioè È stata una live Comunque Su toni Quanto meno Quasi decente Quasi Non sono belle live Se alla fine Non mandi tutto Un po' Esatto Grazie Barbascura È stato un vero piacere Una mia live Se non mandi tutto Puttane Ma non c'è un tempo Ma anche le nostre Non pensano Benissimo Io mando puttane Perché è così Che deve funzionare Comunque ragazzi Io vi ringrazio tantissimo Per esservi prestati Per questa chiacchierata Insieme E quindi Rinnovo Tutti gli auguri Per Natale Per Pasquetta Poi insomma Mi avevi detto Giovanni Quel problema Che avevi alla prostata Quindi Purtroppo è troppo grossa Comunque vi ricordo Che Luca ha scritto Questo libro Motivo per cui Oggi ne abbiamo parlato Perché insomma Sono abbastanza Interessato Dall'argomento E soprattutto Ricordiamo L'appuntamento Del 17 Sui canali 17 Canali Slim Dogs Cinema E scienza Sempre Barbascura Il libro De Luca Per Accattatevi Il libro De Luca E fra l'altro Lo prenderò Se me lo dici Così Con un calice Di vino Credo Alla Tauromachia Star Wars Scienze Grazie mille A tutti E ci vediamo prestissimo Ragazzi Buonanotte E soprattutto Siamo sopravvissuti Questa è una cosa Da non trascurare Guarda che Adesso